Mi sono finto LionWGF su Minecraft e d'altro lato un intero server Come vedete ci sono molte persone che stanno scrivendo LionWGF fake, tutte queste cose, bla 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 Non devo bardare con la classica bardatura perché sennò è troppo sgamabile Inizio a coprire tutto il letto, ok in questo modo e uso questi altri due per metterli qui Poi ricopro di nuovo tutto quanto, devo essere meno sgamabile possibile Mi faccio la spada in ferro e non mi voglio fare l'armatura? Sta arrivando anche il bianco, vediamo se riesco appunto a nascondermi qui dietro Non mi hai visto ragazzi, non mi hai visto o forse sì, non lo so Non voglio subito rompere il letto al team rosa Mi prendo le altre frecce e qualche altra fireball Però sto proprio giocando ragazzi malissimo ma è l'unica cosa che comunque ora posso fare